La logica è la scienza che studia il pensiero, ma anche la parola. Per gli stoici non esiste nessun rapporto diretto fra parole e cose, quindi diverse parole possono indicare lo stesso oggetto. Ad esempio, per un italiano è chiaro cosa vuol dire cavallo, ma per uno straniero è un suono senza senso. Come lo è horse per chi non è inglese. La cosa significata è l'oggetto concreto al quale ci si riferisce, mentre il significato è un concetto, un contenuto razionale. Infatti la chiave è l'oggetto con il quale si apre la porta, ma può anche rappresentare una chiusura per le persone che vengono dall'esterno. Grazie. 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 Grazie.